Ciao a tutti, questa è la mia casa, vedete? È una casa su due piani, adesso entriamo, questo è il cortile, questa è la porta d'ingresso, dentro, permesso, ecco, entriamo e c'è subito un latrio con la scarpiera dove mettere le scarpe, poi qui, questa porta a destra è il bagno degli ospiti, mentre questo è il mio bagno, questa è la camera di Ema, questa porta, adesso qui c'è un corridoio, vi faccio vedere, il corridoio, qui a destra c'è la mia porta, la mia camera da letto, è molto molto grande, molto luminosa, c'è un letto, c'è una poltrona, c'è una scrivania, c'è una libreria, c'è un mobile per i vestiti, sulle pareti ci sono dei quadri, questi li ho fatti io, questo è un regalo di un mio amico, qua c'è una foto con la mia famiglia e poi c'è la madonna, la mia scrivania, la finestra con le tende, poi qui c'è il corridoio e poi entriamo nel sala da pranzo, vedete la sala da pranzo molto grande e poi c'è la cucina, ci porto in cucina, ciao, questa è la cucina come vedete, molto bella, molto grande, luminosa e poi c'è anche un giardino, un giardino qui fuori e la lavanderia.